Prima 165, ok, prima 165 ce l'hai qualcosa moltiplicato per 1 più a, subito ti rendi conto che tutto quanto è da sviluppare e qua c'è 1 più a, quindi vuol dire che all'interno, qua c'è un altro a più 1, vuol dire che all'interno troverai, devi trovare l'espressione di a più 1, 1 più a, che ne so, ok? Ok, quindi vediamo, siccome ti ho detto che devi trovare l'espressione di a più 1, 1 più a, io andrò a cercarmele, ok? Come? Guarda, prima di tutto tra questi due le devo fare omogenei, devo farli uguali, come? Al denominatore lo devo fare uguali a tutte e due, bene, ok? Ok, a più 2, a più 2, a quadrato più a, sarebbe a per a più 1, sì? A più a, a per a al quadrato più a per 1 a, ok? Meno 1a. Ma siccome ti ho detto che devo farli uguali, secondo te che cosa gli manca a questo a per essere uguale a a per a più 1? Certo, gli manca l'a più 1, quindi a questo, a questa frazione, moltiplico al numeratore e al denominatore per a più 1, ok? Questo più uguale, meno, al numeratore metto a più 1 e per evitare cambi, perché tutto sia uguale al denominatore a per, per, ricordate, per a più 1, quindi fino adesso è uguale, ok? Perché potresti eliminare questo, eliminare questo e avere sempre uno a, non hai cambiato niente, però hai già fatto che lui è uguale a lui, hanno lo stesso denominatore. Ok, metto lo stesso denominatore a per a più 1 e cominci a fare a più 2 meno a meno 1, meno a meno 1. Quanto hai qua? A se ne va via con l'altro a, 2 meno 1, 1, quindi alla fine di questo qua avrai 1 diviso a per a più 1. Prima, negli altri casi esercizi, ti ho fatto pure dire che potresti fare il prodotto così, eh? X, è la stessa cosa, a me piace fare questo perché lo trovo più facile, ok? Guarda, a per a sarebbe al quadrato più 2a meno questo qua, che sarebbe al quadrato più a. Quando fai a fare tutto quanto, eliminare al quadrato col meno a al quadrato, lo fai a eliminare, alla fine hai la stessa cosa, ok? E' solo che io sono abituato a fare tutti i denominatori uguali, così, ok? Adesso, questo qua l'ho fatto così, adesso questo qua, a più 1, a più 1. Guarda, a che cosa somiglia questo? Non è questa espressione? Il quadrato del primo al quadrato più il quadrato del secondo, lui, il quadrato del secondo. Il secondo chi è? È 1? No, non è 1, è più 1. Quindi, più 1 al quadrato è sempre 1, ok? Più è il doppio del prodotto del primo per il secondo, quindi 2 per a per 1. a per 1 è a, 2 per a, 2a, 2a, quindi vuol dire che questo qua è uguale a a più 1 al quadrato, ok? Di qua, possiamo eliminare questo o no? Qui è lui. Che cosa rimane? 1 diviso a più 1, d'accordo? Ok, quindi praticamente da qua abbiamo questo e da qua abbiamo lui. Ma siccome vedi tutte e due, che cosa gli manca a lui per essere uguale al denominatore che ho fatto prima? a per a più 1, a per a più 1, gli manca l'a. Beh, ok, moltiplico a e diviso a. Adesso ce l'ho a diviso a per a più 1, stesso denominatore, stesso denominatore. Quando hai lo stesso denominatore è più facile. Quindi adesso ce l'hai tutto quanto meno tutto quanto. Questo qua meno questo qua, guarda, questo qua meno questo qua. È uguale a, denominatore è lo stesso, 1 meno a, 1 meno a. Ma 1 meno a, potresti pure cambiarle subito e dire questo è meno a meno 1 diviso a più 1, ok? Poi, se ti ricordi all'inizio, tutto quanto devi ancora moltiplicare per 1 più a. Ok, che succede se a lui moltiplichi per 1 più a? Guarda, scrivi qua per 1 più a. Questo se ne va con questo e rimane meno a meno 1 diviso a. Oppure 1 meno a diviso a. Quindi vuol dire che questo cambio che ho fatto del segno non dovevo fare neanche, ok? Era ancora senza fare. Per questo molte volte non devi fare le cose subito, devi aspettare a vederlo, ok? Ok, adesso facendo il prodotto così incrociato. Quindi ce l'hai questo qua. 1 per questo e questo qua. Meno a per questo qua. A per A e A al quadrato. A al quadrato per A. No, aspetta, qua c'è... Questo che cosa è? No, no, questo è già finito, che scemo. No, questo qua, con santi scusa, questo qua è finito, è finito qui, ok? Non devi fare niente altro. Qui, qui volevo fare un altro metodo. L'altro metodo è semplicemente moltiplicando, ok? Ricordi qui che puoi fare questa moltiplicazione e io ti ho detto io preferisco fare denominatori uguali. C'è gente che preferisce moltiplicare questo per questo meno questo per questo. Quindi A per A più 2. A per A più 2. meno 1 per questo, A per A più 1. Ma quanto vale A per A più 1? E A al quadrato più A. Quindi A al quadrato più A. Però c'è il meno, quindi meno A al quadrato meno A. Diviso questo qua. La moltiplicazione è tutta e due. A per A al quadrato per A più 1. A per A al quadrato più A. Corretto o no? Scusa, più 1, più 1, più 1, più 1, ok? Quindi, dall'altra parte, A più 1 e questo qua l'ho trasformato come sopra, ok? A più 1 al quadrato. Quindi, A al quadrato se ne va con A al quadrato, rimane 2A meno A. 2A meno A è uguale a A. A è A. Un A se ne va con un A e rimane 1 diviso A per A più 1. Qui, 1 diviso A più 1. Denominatore è uguale? Not really, ancora. Manca un A. Un A per A per A. Adesso sono uguali, quindi posso fare 1 meno A diviso il denominatore in comune. E questo qua l'ho messo qui, ok? È lo stesso. Ricordi, prima ho cambiato il segno. Non dovevi neanche cambiare il segno, eh? Guarda, 1 meno A. Lo porti qua. E fai 1. Lo porto qua e faccio 1 meno A diviso A più 1. Multiplicato 1 più A. Perché qua era tutto quanto multiplicato per 1 più A. Alla fine ho lo stesso risultato. 1 meno A diviso A. 1 meno A diviso A, ok? Qui ho fatto semplicemente il denominatore in comune. A lui, a lui. Scusa. A lui, a lui e a lui. Invece qui ho fatto moltiplicare. Quindi ho fatto questo per questo, meno questo per questo. Ma a me non piace, ok? Sto dando tutte e due. Alla fine scegli che cosa fare tu. Ok? Domani studiamo, eh? Ricordate qui Questo è un metodo Questo è il secondo metodo La risposta è uguale. Invece Filippo The Mad bele La risposta è in